Dunque, il fatto che ci sia di nuovo un'appennata dei flussi, diciamo così, delle traversate del mare verso le coste italiane in realtà non è un fenomeno che nasce o che rinasce in questi mesi, in queste settimane, perché in realtà già nel 2022 sono arrivate ben oltre i 100.000 sbarchi, quindi in qualche modo ha riportato i numeri di qualche anno fa. Però dobbiamo anche considerare innanzitutto il luogo di partenza di queste imbarcazioni e soprattutto anche il tipo di imbarcazione. Ora, è vero che appunto l'anno scorso si è superato i 100.000 sbarchi. Nel 2022 la Meloni mi risulta che sia stata eletta soltanto verso il finire dell'anno, ma il fatto è che di questi 100.000, verosimilmente dalla Libia sono stati 30.000, 40.000, quindi l'aumento degli sbarchi non è tanto determinato dall'aumento delle partenze dalla Libia quanto ci sono altri due o tre punti di partenza che nell'ultimo anno sono cresciuti esponenzialmente. Sto parlando della Tunisia, chiaramente, perché l'anno scorso anche ci sono stati almeno 30.000 sbarchi dalla Tunisia e l'altro paese di provenienza è l'Egitto perché anche per quanto riguarda i cittadini di nazionalità egiziana, scusate, l'anno scorso si parlava anche lì circa di 30.000 persone. Ora, questi peraltro egiziani che raggiungono l'Italia sono in qualche modo coloro che il governo italiano cerca di farci passare come migranti mandati da Benghazi, mandati da Haftar, dalla Wagner, eccetera. Lo scorso novembre ero a Benghazi parlato con la guardia costiera di Benghazi e loro già mi avevano segnalato il fenomeno addirittura mi avevano riferito che in diverse occasioni erano intervenuti per arrestare queste imbarcazioni e portarle a terra anche se partivano dal vicino Egitto ed erano dirette in Italia perché comunque si trattava di imbarcazioni evidentemente clandestine quindi come guardia costiera le avevano intercettate e portate a terra e le persone che si trovano a bordo erano state poi rimpatriate nel vicino Egitto quindi non è tanto la Libia in questo momento che rappresenta l'elemento di novità quanto questi due paesi senza dimenticare è la Turchia perché la tratta dalla Turchia fino alle coste calabresi quella all'interno della quale si è verificata poi la strage di Cutro di cui tanto si è parlato in realtà questa è una tratta che consolida che funziona perfettamente da diversi anni è conosciuta da tutti dal governo greco dal governo turco e soprattutto dal governo italiano ed è tollerata perché normalmente come dicevo prima non solo dobbiamo distinguere il paese di provenienza ma anche il tipo di imbarcazione e quindi queste che partono dalla Turchia e arrivano in Calabria sono imbarcazioni di legno perfettamente in grado di raggiungere da sole le coste italiane quindi questa è una immigrazione di cui non si parla perché questi partono arrivano nessuno vede nessuno nessuno sente nessuno parla e come dire una volta arrivati in Italia sono a disposizione diciamo così dei paesi europei nel campo dell'offerta del lavoro ovviamente quindi questi sono un po' i motivi che portano oggi a questo incremento di arrivi e penso che sia necessario fare un esame insomma delle partenze e del tipo di imbarcazione perché perché in realtà gli unici ad attraversare e ad aver bisogno dell'intervento degli ONG sono quelli che partono dalla Libia perché sia dall'Egitto che dalla Turchia che dalla Tunisia partono tutti su imbarcazioni di legno normalmente perfettamente in grado di raggiungere le coste italiane diversamente dalla Libia perché dalla Libia la maggioranza di loro parte su gommoni sgonfi gommoni sgonfi che in questi ultimi poco meno di dieci anni non sono mai riusciti storicamente a raggiungere le coste italiane e pertanto hanno bisogno dell'intervento di qualcuno a metà strada che in qualche modo li salvi come dicono loro o comunque li intercetti altrimenti il gommone va a fondo senza lasciare traccia questo è il motivo al fondo della feroce discussione di questi mesi intorno al fatto del richiamo che queste imbarcazioni dell'energia avrebbero nei confronti dei migranti in Libia questo se non altro è spiegato dalla logica se questi gommoni non sono in grado di raggiungere da soli le coste italiane hanno bisogno necessariamente di un intervento a un certo punto ed ecco che qui nascono tutti i sospetti peraltro direi provati rispetto al contatto che ci sarebbe tra i trafficanti libici e le ONG perché quelli se non si mettono d'accordo chiaramente i gommoni sono destinati ad affondare in mezzo al mare provocando una strage viceversa quando appunto le ONG non ci sono dalla Libia normalmente questi gommoni non partono perché i trafficanti stessi sanno che sarebbero destinati evidentemente a morte certa a meno che come spesso accade il gommone non venga avviato però con il come dire con l'accordo della guardia costiera di Tripoli che poi va a prendere però quel gommone perché lo riporta a terra perché questi devono essere usati come schiavi pertanto una volta riportati a terra vengono sottoposti a tortura a scopo di estorsione quindi ci sono gommoni che partono dalla Libia diciamo così che teoricamente sono destinati a passare e gommoni che partono dalla Libia che già dalla partenza non sono destinati a passare ma sono stati tra virgolette venduti alla guardia costiera libica che deve soltanto entrare in mare e recuperarli quindi questi sono un po' i motivi che spiegano questo aumento degli svarchi in Italia e chiaramente è un'arma politica tra le più importanti come sappiamo all'interno del dibattito italiano e pertanto non può che occupare le prime pagine dei giornali in queste settimane in questi mesi ma molto di quello di cui si discute è meramente teatro e quindi la destra chiaramente ha puntato come sempre molto sulla sulla questione migrazione nel senso che la Milonis addirittura ha fatto trapelare l'idea di un blocco navale tutte cose di questo tipo ma a giudicare da quelli che sono i risultati ottenuti dal governo Meloni su quelle che sono le cause della migrazione direi che la Meloni sta il governo Meloni stia lavorando per favorire l'immigrazione clandestina faccio un esempio a partire dalla Libia per esempio sappiamo benissimo che il mese scorso il governo Meloni è stato a Tripoli a firmare un accordo per la trivellazione del mare davanti a Tripoli la capitale Libica alla ricerca di gas questo contratto da 8 miliardi firmato con i dirigenti dell'Eni con la presenza dell'Eni in grande stile a Tripoli ecco qui si è parlato in Italia si è discusso fantomatico piano Mattei sarà il caso sarà un bello investimento produrrà i frutti sperati ma saremmo veramente in grado di ottenere questo gas nel giro di pochi anni e quindi risolvere i problemi di approvvigionamento eccetera sì però nessuno ha detto la cosa principale questi contratti sono stati firmati con un governo illegittimo in Libia quello di Tripoli che non solo non ha la fiducia del Parlamento ma di fatto controlla soltanto il 20% del territorio infatti perché la Melonia è dovuta andare a firmare un contratto sull'esplorazione di nuovi giacimenti di gas in mare aperto perché il territorio libico è fuori controllo delle milizie ormai il 80% della Libia e la totalità dei polsi di petrolio è in mano all'esercito nazionale libico quindi non è il governo di Tripoli che dispone degli idrocarburi estratti in Libia in questo momento quindi l'unico pezzo di Libia che li potevano vendere era un pezzetto in mezzo al mare dove appunto l'esercito nazionale libico ancora non arriva quindi questo mi fa pensare non solo che buona parte di questi 8 miliardi in realtà rappresentino niente meno che un investimento bellico un finanziamento bellico a sostegno delle milizie di Tripoli però insomma mi fa anche capire che alla fine la questione migratoria è uno specchietto per la Lodolo un po' per tutti ma non è un problema preso seriamente in considerazione della Meloni perché noi dobbiamo sapere dobbiamo capire che sono proprio quelle milizie quei gruppi armati criminali che controllano questo 20% di Libia Tripoli e dintorni sono proprio loro che hanno in mano le reti del traffico di esseri umani perché come appunto ho raccontato varie volte nel mio lavoro sono loro che in combutta con le mafie africane adescano questi ragazzini in modo che raggiungano la Tripolitania e lì vengano trasformati in schiavi lì vengano sottoposti a tortura a scopo di estorsione quindi sono queste milizie di Tripoli che hanno moltiplicato la migrazione quindi se noi in una situazione dove la Libia sta cercando disperatamente di organizzare nuove elezioni poi qui in occidente si racconta tutto il contrario ma i libici sono da un anno e mezzo che disperatamente cercano di tenere le loro elezioni e la comunità internazionale si mette di mezzo ora se questo è il contesto andare a siglare un accordo di questo tipo con un governo illegittimo a Tripoli di questa importanza stiamo parlando appunto di 8 miliardi di euro significa non solo dare un avallo politico ma di fatto un sostegno militare ora se se la Meloni va a sostenere militarmente ed economicamente le milizie di Tripoli perché vabbè in teoria in questo caso l'argomento sarebbe il gas e però dopo che non si lamenti dei migranti che arrivano dall'Africa perché sono proprio queste milizie che lei ha finanziato che reggono ormai da anni la tratta di esseri umani in Africa quindi ancora una volta come vediamo al momento dei fatti la Meloni fa tutto il contrario di quello che dice peraltro qual è il motivo invece vero per il quale anche la destra italiana in questo momento ha tutto l'interesse a descrivere la questione migratoria in Italia come fuori controllo come un pericolo come un assedio come un'invasione eccetera per il motivo che la risposta a tutto ciò non può che essere militare ed è lì dove la Meloni vuole arrivare perché non solo per queste piattaforme che cercheranno il gas nel mare davanti a Tripoli queste piattaforme avranno bisogno di una protezione militare e navale da parte dell'Italia la stessa missione Irini che è partita nella primavera del 2020 missione navale internazionale a cui capo c'è l'Italia che dovrebbe monitorare dovrebbe monitorare l'embargo di armi verso la Libia è stata rinnovata quindi l'Italia militarmente è in prima linea nel Mediterraneo e già da diverse settimane prima un po' velatamente poi in maniera come dire del tutto chiara la Meloni ha già fatto capire che l'Italia intende di fatto affidare il pattugliamento del canale di Sicilia al ministro della difesa quindi a Crosetto nuovamente per me che da anni seguo la questione sono tutte cose piuttosto evidenti però insomma ormai anche noi abbiamo più di un indizio che ogni volta che la Meloni parla di immigrazione in realtà stia parlando di come dire di discorso bellico di difesa perché in ogni caso noi siamo siamo un paese in guerra stiamo mandando non soltanto finanziamenti armamenti in Ucraina stiamo addestrando i soldati ucraini siamo di fatto ormai un paese in guerra il fronte sud in questo momento è caldissimo perché il popolo libico sta chiedendo elezioni ma la comunità internazionale si è messo per traverso i polsi di petrolio in Libia sono militarmente sotto il controllo dell'esercito nazionale libico quindi bisogna fare qualcosa in Libia probabilmente bisogna intervenire la basciata britannica ormai sono un paio di mesi che sta facendo enormi sforzi per riorganizzare le milizie libiche in vista chissà di che cosa forse di un tentativo militare di andarsi a riprendere i polsi molti libici in questo momento se lo chiedono se lo chiedono se la strada della Libia per i prossimi mesi imboccherà quella delle elezioni o quella della ripresa del conflitto però è chiaro che la questione ruota intorno agli idrocarburi e la militarizzazione del fronte sud mediterraneo è tutta di fatto in mano all'Italia e questo è il motivo per cui il governo italiano sta cercando quindi di destra sta cercando di avvallare questo spauracchio dell'immigrazione dal Mediterraneo perché l'obiettivo è quello di militarizzare il Mediterraneo con il pretesto di fermare i migranti in realtà sarà una militarizzazione che sarà parte delle dinamiche del conflitto in corso uno dei paesi dai quali si sta registrando ormai da più di un anno una forte impennata delle partenze è la Tunisia la Tunisia sta attraversando una fase storica molto delicata molto importante che andrebbe raccontata per quella che è e non attraverso i filtri ovviamente della propaganda di guerra europea perché in queste settimane sono usciti articoli che attaccano il presidente Sayed perché appunto starebbe in qualche modo opprimendo i migranti subsahariani presenti in Tunisia e che quindi un presidente che avrebbe esautorato la democrazia in Tunisia e quindi sarebbe ritornata alla dittatura e quindi un vero e proprio dittatore che comincia appunto dal vessare i migranti in realtà la situazione è un po' diversa perché il paese sta assolutamente attraversando una fase drammatica ma noi dobbiamo capire quali sono gli elementi di questa definita crisi tunisina il fatto è che questo presidente Sayed eletto ormai tre anni fa è stato eletto direttamente dal popolo per la prima volta ed è un personaggio sicuramente a modo suo però che non viene dalla politica che non era legata ai gruppi politici e quando si è messo alla testa del paese dopo un po' di tempo si è accorto che il paese non avrebbe fatto progressi se non svantellando quella che era la rete mafiosa della fratellanza musulmana e la fratellanza musulmana sappiamo benissimo questa corrente di pensiero che è andata al potere nei paesi nord africani all'indomani delle famose cosiddette rivoluzioni arabe la stessa fratellanza musulmana è quella che detiene il potere a Tripoli senza il consenso del popolo ed è la fratellanza musulmana che è quella che sta combattendo Sayed un po' a nome di tutto il mondo arabo ed è quasi arrivato a sconfiggerla come? semplicemente chiedendo a tutti i deputati quindi inclusi i deputati del Parlamento tunisino quindi inclusi quelli appartenenti alla fratellanza musulmana di farsi processare di andare a processo di quindi ha cercato di smantellare queste queste cupole di potere che in questi dieci anni si erano create in Tunisia che rispondevano chiaramente ad agenti stranieri a cominciare dall'Unione Europea per non parlare della Turchia e del Qatar questo secondo l'analisi di Sayed e di moltissimi tunisini è quello che ha creato le basi dello sfacelo economico del paese pertanto la battaglia che sta combattendo Sayed è questa se non che questa fratellanza musulmana è un corpo estraneo in Tunisia come nei paesi del Nord Africa perché è una classe dirigente appunto al servizio delle potenze straniere e quindi al servizio anche dell'Occidente quindi la conseguenza è che il Fondo Monetario Internazionale sta negando i fondi alla Tunisia sta chiudendo i rubinetti proprio per far pressione sul presidente Sayed lo stessa cosa sta facendo anche l'Unione Europea stanno mettendo veramente la Tunisia in ginocchio per portare Sayed e i suoi sostenitori quindi il popolo tunisino ha più miti consigli nei confronti di questa che ha tutti gli effetti un tentativo di debellare la fratellanza musulmana dal paese quindi che succede succede che molti tunisini scappano scappano perché hanno perso il lavoro perché l'economia è di fatto ferma in Tunisia ma tantissimi anche emigranti subsahariani presenti in Tunisia che avevano finora un lavoro la maggior parte di questi fuggono dalla Libia e negli anni in un paese comunque pacificato come la Tunisia hanno trovato lavori in qualche modo si sono inseriti ma in questi mesi li stanno perdendo tutti questi lavori perché perché si sta fermando l'economia tunisina pertanto quando questi si ritrovano senza lavoro e di fatto gradirebbero anche tornare a casa il presidente Sayed sta mettendo a disposizione dei voli di rimpatrio perché per loro che dalla Libia pensavano facilmente di arrivare in Europa alla Tunisia un cul-de-sac molti stanno prendendo questi voli di rimpatrio ringraziando il presidente Sayed però il problema è che questi voli costano la Tunisia è senza soldi e le ambasciate africane non stanno correndo in aiuto dei propri connazionali quindi per molti l'unica possibilità è quella di provare la traversata che viene presentata come una traversata molto facile non come quelle dalla Libia che appunto sono rischiose sui gommoni sgonfi poi la distanza è considerevole invece dalla Tunisia in un attimo si arriva all'Ampidusa questo ha provocato un innalzamento del mercato e di fronte a questo innalzamento nemmeno le forze dell'ordine la guardia costiera nemmeno forse il presidente Sayed ha intenzione di porre un argine perché a sua volta è sottoricato del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea io penso al contrario che bisognerebbe sostenere la Tunisia in questo momento delicato della propria storia perché stanno facendo qualcosa di straordinario anche a nome di tutto il Mediterraneo in particolare dei paesi arabi e spero quindi pertanto che Sayed e il popolo tunisino vincano presto a questa battaglia e che quindi la Tunisia torni presto a essere lo splendido paese che è e che quindi gli stessi tunisini in primis rimangano al loro paese e che quindi anche diversi lavoratori subsahariani trovino il modo di vivere e di lavorare nel paese tunisino e di lavorare e di lavorare